Era un po' che non giocavo Cioè L'ultimo salvataggio risale Al 27 aprile E oggi è l'8 giugno Sì Sono proprio una persona Competente Competente, esaustiva Non fate commenti Allora adesso mi devo ricordare Che cazzo stesse succedendo Perché io non ricordo assolutamente nulla È passato un pochino di tempo Come abbiamo potuto vedere Andiamo un secondo di capire che cosa stia succedendo qui Così almeno Cerco di ricordare Forse direi che sia il caso Di fare rifornimento Di odd egetti Però medicina qua non ne vedo Sono sempre le solite Robe che baffano Io volevo l'hamburger Ah di te però non mi ero mica dimenticato Sì però per favore Doppiaggine inglese non si può sentire Vorrei fare battute Su Come potrei dire Parti Deboli Della società Ma visti i casini Di questo periodo preferirei evitare The fuck is going on Che è sto cringe Stammi lontano Nuovo sinonimo di incubo No Sparisci ti prego Non farti mai più vedere Brava brava Veloce però Ciao 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 Adesso però so Cosa devo andare a prendere Comunque è noto solo ora per bene Certi modelli Certe texture Devo dire che si sono impegnati Questo gioco È decisamente Dieci su dieci C'è da dire che la grafica di giorno O di mattina Questa mi sa che è tipo alba Non rende esattamente come di notte Peccato Peccato È comunque meglio di spade e scudo E su questo non si dispute No Non smetterò mai Mai Di percularli Perché se lo meritano Ma sono cose che ho già fatto per i cazzi miei Rifugio La toilette Ah aspetta Non è che magari Le medicine si comprano qua Ma non ne sono Si cure invece E invece si Vedi che sono Anch'io ogni tanto Intelligente Allora direi Prendiamo nove di queste Che non bastano Ma è enorme quel gatto Quale cattiveria Diciamo che non apprezzo il tuo costume Ma i tuoi vestiti normali Vanno più che bene L'uomo gatto è sparito dalla Chissà cosa andremo contro Benissimo Quindi uno di sti stronzi dice la verità Tutti gli altri sono dei figli di Troia Allora Qui abbiamo due strade Che possiamo prendere Rifletterci Ragionarci Perderci le ore Perché sono io Non perché questa roba Sia effettivamente difficile E quindi Dare una risposta sensata La seconda Andare a caso Eh si E' stato proprio difficile Ci ho dovuto proprio pensare Per vedere che Se facciamo così Debravi sbirri infami Che cazzo vai No Non ditemi che devo fare un altro test Oh Ah questo è più difficile Quindi devo Tutto per una fottuta bibita Io vi ammazzo Giuro che vi ammazzo Questa sarebbe la porta rossa Quindi mi sa che ci aspetta Altro casino Ma direi che possiamo tenercelo Per la prossima volta Sì Precisamente Alla prossima 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 Grazie.